Musica Si è svolto nei giorni scorsi a Crotone nell'Aula Consigliare del Comune l'incontro pubblico dal titolo Obiettivo Rifiuti Zero Fondi Europei. L'evento è stato organizzato dal gruppo in Parlamento Europeo EFDD. Hanno partecipato Mario Albino Gagliardi, sindaco di Saracena, Gabriele Folli, assessore del Comune di Parma, Mario Piras, presidente dell'associazione Zero WOS Lazio. Ha concluso l'incontro l'euro parlamentare Laura Ferrara. L'iniziativa è quella di approfondire delle tematiche, delle problematiche inerenti al territorio. In questo caso è stata scelta nella macroarea dell'ambiente come poter intervenire per attuare la nostra iniziativa Zero Waste, rifiuti zero, per cui puntare sul riutilizzo, sul riuso, sul riciclo, in modo da non avere più alcuna forma di rifiuto. Cominciare a vedere il rifiuto non più come tale ma come risorsa. Come saprai che Crotone è agli ultimi posti per la differenziata. Cosa si può fare a livello di Crotone come capoluogo di provincia ma anche nei piccoli paesi che circondano il capoluogo? Il cambiamento più grande deve essere nel modo di pensare, nel cominciare a pensare al rifiuto in maniera diversa. Anche per questo parliamo anche di rieducazione. Cominciando a guardare al rifiuto in maniera diversa, torno a dire come risorsa, allora si ha un maggiore rispetto per l'ambiente e di conseguenza anche per noi stessi. Si può arrivare a questo? Noi siamo ottimisti, assolutamente si può arrivare a questo. Non è nulla di impossibile, nulla di utopistico. Basta volerle, determinate cose, e si riescono ad ottenere. Se si capisce che l'obiettivo è la tutela della propria salute, la tutela della salute propria e di conseguenza di tutti i cittadini, è evidente che il passaggio al cambiamento del modus pensandi è breve. Difficile, però si deve provare comunque. Se non si prova non si ottiene nulla. Al Parlamento Europeo cosa si dice di crotone, della Calabria? Al Parlamento Europeo si parla di diverse tematiche, inerenti diverse regioni, diversi stati membri. Ciò che a noi sembra peculiare del nostro territorio, poi a conti fatti, fa parte di diversi territori, non solo della Calabria. Non siamo esclusivi, nel bene e nel male non siamo esclusivi. Per cui problematiche che crediamo siano inerenti esclusivamente alla Calabria, poi a conti fatti, accomunano il nostro territorio a tanti altri. Per cui bisogna guardare al problema in maniera più globale. Tra poco le elezioni regionali, come andrà a finire? Noi ci auguriamo bene, ce la stiamo mettendo tutta. Ancora dobbiamo cominciare, abbiamo un gran bel programma, redatto dai nostri attivisti, da persone che hanno deciso di mettere a disposizione parte del proprio tempo per individuare dei punti su cui fare leva nel corso della campagna elettorale, delle proposte, dei progetti che esporremo a tutti i cittadini nel corso del tour che faremo nella regione Calabria. Per cui le aspettative sono buone, sono tante. Speriamo di avere un buon risultato. Il Comune di Isola Caporizzuto e l'Associazione Culturale Leonardo da Vinci hanno incontrato l'Ambasciata Algerina a Roma per un gemellaggio tra Algeri e Le Castella. L'assessorato alla cultura e all'istruzione del Comune di Isola Caporizzuto guidata dal Vice Sindaco Patrizia Battigaglia, l'Associazione Culturale Leonardo da Vinci di Le Castella e la Comunità Algerina Italiana sono stati accolti nei giorni scorsi presso l'Ambasciata Algerina in Italia a Roma. Oggetto dell'incontro, come richiesto dalle tre realtà protagonista, è la volontà di avviare un gemellaggio culturale e sociale tra la città di Algeri, specificatamente tra la Casba e il Comune di Isola Caporizzuto. La Camera di Commercio di Crotone ha aderito al progetto Eccellenze in Digitale, promosso da Google in collaborazione con Union Camere, il cui scopo è aiutare le imprese a rendersi visibili sul web per allargare il proprio mercato anche alla vendita online, pubblicizzare l'azienda come riferimento d'eccellenza e di qualità, sfruttare l'innovazione digitale come fattore di vantaggio competitivo. Il supporto alle imprese verrà garantito da due digitalizzatori che si occuperanno di analizzare il livello di presenza sul web delle imprese, promuovendone le opportunità e sostenendole nel percorso di avvio al mondo dell'economia digitale. Le imprese interessate potranno beneficiare di un'assistenza continua e di un percorso di lavoro personalizzato. Oggi siamo alla Camera di Commercio, le aziende interessate a Google, interessate all'e-commerce, al commercio che viene fatto attraverso internet, se ne parla proprio in Camera di Commercio, insieme a noi c'è il Commissario, parliamo di questa iniziativa che è stata fatta in concomitanza con Union Camere e il colosso di Google. Quanto può interessare alle aziende nostrane questo tipo di iniziativa? È un'iniziativa sicuramente molto interessante, che conferma ancora una volta come il sistema camerale nazionale, in questo la Camera di Commercio di Grotone, si pongono all'avanguardia in termini di sensibilità verso quelli che sono i nuovi tematismi dell'innovazione tecnologica e digitale e soprattutto si pongono all'avanguardia essendo questi proprio gli ambienti giusti dove poter fare innovazione, promuovere l'innovazione sui territori. Ne è testimonianza l'adesione a questa iniziativa che Union Camere ha portato avanti con Google e che vede oggi la Camera di Commercio presentare un progetto sul territorio per la fornitura di servizi digitali alle imprese grotonesi. Internet ha portato benefici però anche delle difficoltà alle aziende, e chiunque ormai si rivolge al computer per poter acquistare dai vestiti ad elettronica, un pochino tutto. Ecco, quindi un adeguamento delle aziende ci vuole se vogliono continuare a sopravvivere, quindi non solo la vendita allo sportello, non solo vendita in loco, ma anche su Internet. Abbinare le due cose può essere la soluzione vincente. Ebbè, assolutamente. Nel senso che oggi, voglio dire, il problema di Internet non è solo un problema di infrastrutture, ma un problema di sensibilità al contesto, nel senso di avere la capacità di comprendere che la soluzione Internet passa attraverso la condivisione sui social, passa attraverso cloud computing, passa attraverso tutto un sistema di competenze che purtroppo in Italia ancora dobbiamo recuperare. Non dimentichiamo che siamo uno dei paesi che in termini di ritardo nelle competenze purtroppo registra ancora molta strada da fare. Eppure l'economia digitale vale oggi nel contesto, diciamo, internazionale, 5,5% del PIL. In Italia ancora siamo intorno al 3, 2,5-3%. Per cui, anche su questo, voglio dire, bisogna investire. E la Camera di Commercio, insieme alle aziende crotonesi, attraverso questa iniziativa, intende fare proprio, come dire, muovere un primo passo verso la digitalizzazione del sistema dell'impresa crotonesi. A proposito di aziende, avete avuto sentore, voi che, diciamo, la Camera di Commercio è un pochino il termometro dell'economia della nostra zona. Quante aziende aderiranno, quante aziende sono interessate all'e-commerce? Io mi auguro tantissimo. Intanto perché, voglio dire, come abbiamo detto prima, è fondamentale stare sul digitale. E poi perché i tematismi che abbiamo individuato, come i prodotti tipici territoriali, il turismo, eccetera, sono quei settori che più risentono dell'assenza sulla rete. Quindi per le nostre imprese credo che questo sia un momento importante, tenuto anche conto che l'iniziativa che forniremo è un'iniziativa assolutamente gratuita. Forse sono più avvantaggiati i giovani rispetto a chi ha qualche anno in più a questo tipo di attività. Ma io credo che questo sia ormai un luogo comune abbastanza superato. Sì, è vero che c'è una componente chiaramente giovanile che meglio si interfaccia con le nuove tecnologie, però è anche vero che, diciamo, ormai siamo giocoforza per tutti quanti sulla rete, vuoi per, diciamo, i rapporti con il sistema del credito, vuoi per i rapporti con il sistema della pubblica amministrazione, vuoi per quello che appunto può significare oggi la promozione dell'economia sul digitale. Internet è una straordinaria opportunità per aziende di ogni settore e dimensione che possono far conoscere i propri prodotti anche di nicchia, oltre ai confini nazionali, raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti in tutto il mondo. Maturità digitale ed export hanno un impatto diretto sul fatturato delle imprese fino al 39% del fatturato da export delle imprese di medie dimensioni che sono attive online e realizzato grazie al web. L'iniziativa, totalmente gratuita, si rivolge alle imprese del settore agroalimentare che producono sardella e prodotti sott'olio tipici, pecorino crotonese, miele e marbellate, salumi prodotti da forno. Per partecipare a eccellenze in digitale è necessario aderire alla manifestazione di interesse disponibile sul sito web della Camera di Commercio di Crotone. Noi ci sono i digitalizzatori, coloro che hanno portato l'innovazione nel mondo con Internet e soprattutto rappresentano questo grande colosso, questo gigante che è Google, con i quali questa iniziativa in ambito nazionale, con Union Camera. Parliamo della vostra iniziativa, quanto influenzerà sul commercio in loco questa iniziativa di Union Camera e del vostro gigante? Sì, Made in Italy, eccellenza in digitale, è un bel progetto perché si rivolge alle piccole e medie aziende del nostro territorio, in particolare del settore agroalimentare. Hanno la possibilità di farsi conoscere sul web, di farsi pubblicità e la nostra speranza è che attraverso questi strumenti possa intercettare nuovi canali di vendita. E' importante precisare che sono strumenti veramente accessibili a tutti, sono gratuiti, sono semplici da utilizzare. Allora perché non bisogna cogliere questa opportunità? Perché dobbiamo restare fuori da un grande mercato in cui è presente tutto il mondo. E allora l'invito è quello di partecipare a questa iniziativa che vuole essere un po' la porta d'ingresso all'economia digitale. Noi vogliamo essere i compagni di viaggio delle aziende, coloro che daranno una mano in concreto a loro per farli entrare in questa avventura. Io penso che i giovani non avranno problemi. Le persone anziane, magari un commerciante di mezza età, probabilmente avrà delle difficoltà ad aprire un suo negozio su internet, ad allargare meglio la sua attività, oltre che in loco, anche su internet. Per questo ci siamo noi digitalizzatori. Infatti noi abbiamo fatto questo concorso che è appunto stato un concorso pubblico attraverso cui siamo stati scelti proprio per le nostre caratteristiche di, tra virgolette, informatori, più che effettivamente esperti nel settore. Perché noi sì, conosciamo questi strumenti, ma questi strumenti sono in effetti abbastanza facili per tutti. Noi lavoreremo più sulle strategie, sulle strategie da dare alle aziende, per fare in modo che ogni azienda abbia il suo strumento adatto per riuscire a vendere e pubblicizzare i propri prodotti su internet. Le previsioni? Quante aziende crotonessi aderiranno a questa iniziativa? Ma al momento ancora il bando è aperto, la scadenza è il 13 di ottobre. Abbiamo riscontrato grande successo, grande entusiasmo. Quindi vuol dire che c'è veramente interesse verso questi strumenti e c'è intenzione da parte degli imprenditori di iniziare ad usare queste applicazioni. Quindi speriamo che le adesioni siano tante. E l'invito che noi facciamo è proprio questo. Aderite, andate sul sito della Camera di Commercio, leggete la manifestazione di interesse e presentate la vostra candidatura. È un'occasione da non perdere. Questa è la nostra raccomandazione. Con lui chiudiamo su una domanda che esula un pochino dalla vostra iniziativa. La sicurezza degli acquisti su internet penso Google stia provvedendo in maniera efficace. Allora, in realtà il problema degli acquisti su internet è tutto legato alle carte di credito, eccetera, eccetera. Quindi è sulla dall'acquisto vero e proprio. Però quello è stato implementato da varie risorse, dalle banche stesse. Ormai qualsiasi servizio online ha due o tre volte di password da inserire. Quindi quello non deve essere un problema per le aziende, anche perché appunto per quello se ne assicura già la banca stessa a creare la sicurezza. Si è svolto a Crotone al Museo del Mare e della Terra il seminario sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale in Calabria proposto da Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato e Fondazione Lilli. L'evento nasce con l'obiettivo di dare un contributo determinante per trovare insieme soluzioni e far assumere impegni precisi e concreti per il rilancio della sanità pubblica in Calabria a partire dai bisogni dei cittadini. Con queste parole Tonino Acetti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato e cittadinanza attiva, ha aperto l'appuntamento calabrese del ciclo di seminari sullo stato di salute del sistema sanitario nazionale e regionale, promosso da Cittadinanza Attiva e Fondazione Lilli. Oggi un convegno, si parla di sostenibilità del sistema sanitario pubblico organizzato da Cittadinanza Attiva e insieme a noi la componente della Direzione Nazionale di Cittadinanza Attiva è il dottore Corrado. Ecco, dottore, la sanità calabrese ci sarebbe tanto da dire, chi dice bene, chi dice male, secondo me la verità sta in mezzo. Ecco, parliamo di questo convegno di oggi, parliamo di da che punto si vuole partire e porre le basi per un futuro della nostra sanità calabrese. Intanto vi ringrazio, intanto non sono un dottore, sono solo un cittadino che si impegna, che è impegnato nel sociale e che ha a cuore i problemi della nostra terra. In particolar modo quello della sanità, dove una serie di politiche, diciamo che, per ripianare i debiti, hanno di fatto eliminato quel minimo di assistenza che i cittadini hanno bisogno. Se immaginassimo un po' che la nostra regione è una regione debole dal punto di vista economico, quindi un tessuto sociale molto debole, non si può permettere questa condizione, per cui non avremmo bisogno di una riorganizzazione complessiva del sistema sanitario regionale. ovvio però che, come ho detto nel precedente intervento, le cause sono da addebitare intanto a una scarsa sensibilità politica nel gestire e nel mettere il cittadino al centro di tutte le attività che dovrebbero muovere l'agire politico. Mentre invece la politica per mantenere un suo ruolo è autoreferenziale e tende in qualche maniera a sviluppare un'azione diciamo clientelare che non ci consente più di poter avere più i soldi per poi spendere. Ecco da qui nasce la necessità di fare un intervento straordinario quello di rimettere a posto i conti. Si rimettono a posto i conti chi paga di più è sempre il debole per due ordini di motivi. Il primo perché non ha le capacità per potersi finanziare non ha la possibilità di poter pagare perché lei sa che questa nostra regione è sotto il piano di rientro e quindi la legge impone tasse su tasse quindi abbiamo il massimo delle prestazioni del pagamento del ticket e a volte capita che se vai a una struttura privata paghi meno rispetto al pubblico e questa è una struttura e allora dico invece di mettere di operare questo taglio così lineare perché non hanno riorganizzato sul senso vero del termine il servizio sul territorio immaginando che lo Stato la nostra Costituzione prevede che è un diritto inanelabile del cittadino avere salute e non malattia e per la salute la puoi creare solo se tu investi nella prevenzione e quindi da qui poi una serie di accascata che vanno diciamo una serie di economie che si possono creare purtroppo gli interessi sono forti il cittadino rappresentato dalla politica non è tutelato pertanto ecco lo Stato dell'arte qual è io direi ecco la vostra esistenza il Tribunale dei diritti del malato il nome che dice tutto ecco il vostro impegno è sempre maggiore siete presenti in quasi tutti gli ospedali italiani parliamo in locale a Crotone cosa sta succedendo guardi di Crotone c'è l'amica la delegata diciamo qua Ines Maroni che è molto più addentro rispetto alle mie conoscenze io ho una conoscenza a livello generale e comunque voglio dire guardi se Crotone piange Milano non ride nel senso che è un problema generalizzato però è generalizzato nelle regioni ripeto che sono sottoposti a un piano di rientro è chiaro che una sanità ospedalocentrica non la possiamo più immaginare perché non è giusto immaginarla perché in effetti come ci sono dell'innovazione nel campo della farmacologia se una volta per un intervento per una urcera si ricorreva all'intervento oggi una pasticca risolve il problema quindi è una economia allora se ecco si mettessero in rete i medici di famiglia unitamente ai medici ospedalieri quindi i medici territoriali facessero veramente rete e mettessero l'uomo al centro il cittadino al centro io sono convinto che anche Crotone avrebbe una buona sanità e non è qui la storia del pubblico del privato privato bello pubblico no e viceversa perché spesso e volentieri noi ci facciamo un po' condizionare dagli aspetti alberghieri se vai in una struttura privata probabilmente curano molto il rinfresco delle stanze mentre in quella pubblica è un po' così latitante non è giusto ovviamente perché anche la pubblica deve essere anzi il pubblico secondo me magari fare gli agire in simbiosi oh esatto allora dico fare una sana integrazione pubblico privato credo che sia una bella ricetta per dare a una collettività i servizi di cui ha bisogno ovvio per organizzare questo hai bisogno di un piano più metodologico se questo tu non ce l'hai è evidentemente è come se tu sparassi nel mucchio e non prendi nessuno speriamo che i politici che sono presenti anche quelli che ascolteranno a distanza quando è stato detto in questo convegno abbiano a buon intendere quello che la cittadinanza attiva sta mettendo in campo almeno queste proposte guardi io dico questo che il vero politico è il cittadino noi abbiamo una grande arma noi non dobbiamo fermarci al momento del voto cioè a quando andiamo a mettere la preferenza all'uno o all'altro a uno o all'altro movimento qui c'è un fatto di carattere culturale se siamo noi coscienti del fatto che sono nostri che abbiamo diritti costituzionalmente garantiti abbiamo ovviamente degli altri doveri che si accompagnano ai diritti io sono convinto che il politico il politico vecchio nuovo che si voglia o quello che ci sarà farà un'altra condizione se noi andiamo invece a barattare con il politico un nostro diritto ci passa come se fosse una concezione quasi di 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 lascito di di un di di per 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 un attacco eccetera Infatti a questo dicevo che il nostro paese non è vero che non spende soldi, noi spendiamo nella sanità italiana il 7% del PIL nazionale, mi dicono ovvio rispetto agli altri paesi spendiamo meno, è vero ma il 7% è una bella fetta, però in questo 7% che se è riorganizzato bene il servizio naturalmente noi potremmo dare servizi di qualità ai cittadini e quindi intanto mettiamo in atto una serie di prevenzioni in modo che uno non si ammala, poi nel caso in cui dovesse avere questo problema naturalmente hai questi ospedali ma soprattutto poi ricorri nell'aspetto riabilitativo. Un po' rispolverare una legge del 78, che poi è una bella legge in fondo, dove diceva che il futuro della sanità doveva essere la prevenzione, poi l'ospedale in estrema razio e il territorio e quindi una riabilitazione. Questo significa che tu hai queste risorse di cui tu hai, li spendi bene e soprattutto attraverso questa azione elimini di fatto, se il cittadino è vigile ed attento e quindi è consapevole dei propri diritti, quella corruttela che è ed è tanta nella nostra sanità. E' tanta, ma non è solo la sanità che è corrotta, ahimè purtroppo è un fatto che è generalizzato, tuttavia però questo parte proprio dalla corresponsabilità, della responsabilizzazione del cittadino. Non suddito, cittadino, uomo libero e quindi noi siamo nella città di Alcmeone e diceva che la salute tu la costruisci creando un equilibrio, quindi non il dolce e l'amaro no, ma insieme un po' dolce e un po' amaro. Ecco, lo diceva nell'antica Grecia e lo dicevano qui a Crotone negli anni che furono, non vedo perché i soggetti che si candidano a rappresentare le nostre miserie non devono farne tesoro di questo insegnamento che viene da lontano. Siamo qui a Cutro ai campi sportivi con Nicola Martino, segretario dell'AS Cutro che oggi ha organizzato insieme allo Juventus Club di Isola Caprizzuto un raduno di calcio a 5 femminile. Ci spieghi un po' questa iniziativa? Allora, per quanto riguarda la nostra iniziativa, siamo partiti l'anno scorso col fare la squadra delle ragazze per riproporci quest'anno di organizzare una vera e propria scuola calcio, anche per dare opportunità anche alle ragazzine più piccole e per alimentare anche quello che può essere il serbatoio, ecco, una piccola cantera come direbbero in Spagna della nostra squadra grande. C'è stato d'aiuto anche il club Juventus di Isola, quindi una collaborazione anche con loro e diciamo che come scuola calcio femminile è la prima nella provincia di Crotone. Al di là di questo vediamo quest'oggi come risponderà il pubblico, speriamo bene perché noi ci mettiamo la passione anche in tutto ciò che facciamo, ecco, come dalla scuola calcio che l'abbiamo riaperto dopo tanti anni, stessa cosa con questo primo raduno femminile. Ho visto che nonostante la bruttissima giornata, ieri è piovuto tanto e anche stanotte c'è qualche ragazza anche arrivata dal circondario, insomma, mi dicevi steccato, Crotone, oltre a Cutro. Sì, ci sono ragazzi di steccato, di Crotone, proprio hanno, grazie a loro hanno risposto positivamente, diciamo, a questa nostra iniziativa e il calcio va avanti nonostante la brutta giornata e noi ci mettiamo la passione, speriamo che le ragazze rispondano positivamente e continuino a rispondere positivamente. La squadra principale femminile l'anno scorso come è andata? La squadra principale l'anno scorso è arrivata in finale di Coppa Calabria, poi persa a merito Portosalvo, persa nella finale. Quest'anno il gruppo è stato riconfermato in blocco. Dotti di Cutro? No, 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 ci sono alcune ragazze di Cutro, molte ragazze di Crotone soprattutto, un bel gruppo di ragazze molto affietate e speriamo, al di là dei risultati sportivi, anche di raggiungere obiettivi a livelli umani e di aggregazione. Che poi è il motivo principale che vi spinge. Il motivo principale, il sociale, quello che soprattutto noi ci siamo proposti e ci riproporremo. Sestito Ottaviano, allenatore della squadra femminile di calcio di Cutro. Oggi c'è questo raduno provinciale con la prospettiva di fare una scuola a calcio femminile. Una bella idea, non c'è che dire. E quindi, visto questa esigenza, abbiamo cercato di portare a Cutro nella provincia di Crotone il più ragazze possibile per fare una selezione sia per la squadra grande sia per creare questa scuola a calcio che manca, diciamo, in tutto il crotonese. È un'iniziativa che la società Cutro Calcio e la Juventus Club, l'associazione, ci tengono tantissimo per portare avanti questa nuova iniziativa calcistica femminile. Per adesso, di calcio a 5 perché è il calcio più minore, però la possibilità anche di fare calcio a 11 che per le ragazze è una cosa molto più interessante. Speriamo che questo raduno sia uno dei primi e che porta tanta gente, vista la volontà delle ragazze in espansione, di crescere in questo gioco molto bello. E da dove nasce questa passione per il calcio femminile? Non lo so, è da due anni che mi sono molto avvicinata al Milan, alla squadra. Eh, si vede. Poi, vedendo le partite, mi sono avvicinata niente di più. Risultati e classifica di calcio, eccellenza. Calcio Galli Cocatona, Polisportiva Isola Caporizzuto 1-0 Calcio Acri Bocale Calcio 4-1 Castroviglia di Calcio Vibonese 1-0 Cutro Scalea 2-0 Guardavalle Sersale 1-0 Palmese Corigliano Schiavonea, sospesa per impraticabilità di campo Paolana Taurianovese 3-2 San Biase Lamezia Brancaleone 1-3 Classifica Calcio Galli Cocatona punti 10 Calcio Acri 10 punti Paolana 10 Palmese 9 Cutro 9 Ribonese 5 Corigliano Schiavonea 4 Brancaleone 4 Castroviglia di 4 Isola Caporizzuto 4 Guardavalle Sersale 4 San Biase Lamezia 3 Scalea 3 Boccale Calcio 2 Taurianovese 1 Promozione Gironea Audace Rossanese San Lucido 1-1 Contronei Torretta 1-1 Sporting Club Davoli Garibaldina 1-1 Città Amantea San Fili 2-2 Juvenile Alto Ionio Filogaso Riviata per impraticabilità di campo Luzzese Rocca Bernarda 2-0 Promosport Roggiano 2-0 Sant'Anna Trebisacce 0-1 Classifica Trebisacce 9 punti Garibaldina 8 San Fili 8 Roggiano Calcio 7 punti Promosport 7 San Lucido 7 Juvenile Alto Ionio 6 Rocca Bernarda 5 Audace Rossanese 5 Filogaso 4 Città Amantea 4 Luzzese 4 Sant'Anna 3 Contronei 3 Sporting Davoli 2 Torretta-5 Prima categoria Girone B Risultati ASD MKM Soraca 1-0 Atletico Botricello Real Catanzaro 1-1 Casabona Calcio Nuova Torremelissa 3-3 Chiaravalle Taverna 1-5 Staletti Papanice 5-1 Real Cerva Betronà 2-0 Scandale Real Botro 1-1 Silana Badolato 1-0 Classifica Silana 9 punti Caverna 9 ASD MKE 7 punti Real Cerva 7 Casabona 7 Scandale 7 Atletico Botricello 7 Real Catanzaro 4 Staletti 3 Chiaravalle 3 Real Botro 1 Badolato 1 Insieme a Nuova Torremelissa e Papanice Petronà e Mesoraca a 0 punti Questa settimana abbiamo seguito Scandale Real Botro Servizio di Rosario Rizzuto Grazie a tutti Presidente Marazzita dell'US Scandale Oggi è sfuggita la terza vittoria consecutiva È arrivato solo un pareggio con Real Botro Un bel pareggio con una signora squadra Con ottimi elementi Un pareggio giusto per l'andamento della gara Siamo stati un po' ingenio sul calcio di rigore Penso che c'era Però diciamo che è un pareggio giusto e dobbiamo continuare così Ricordiamoci sempre che il nostro obiettivo è la salvezza Di lottare domenica per domenica Oggi non siamo stati brillanti come al solito Abbiamo messo carattere su ogni pallone Ci siamo difesi per quello che abbiamo potuto E nello stesso tempo abbiamo espresso qualche azione positiva Nel complesso ha visto bene la sua squadra? Oggi ho visto tanto carattere Hanno dato tutti il massimo E abbiamo portato un risultato che a noi ci fa comodo Domenica si va a Badolato Una gara difficile come tutti ormai in prima categoria Come organizzerete la trasferta? Sicuramente non diamo cambiamento d'aria Come si dice Sono tutte partite ostiche Un bel campionato Tutte con squadre attrezzate E andiamo a fare la nostra partita Sicuramente Il migliore di oggi tra i suoi Chi ha visto? Poi come ha visto la discesa in campo Negli ultimi minuti di Mr. Castagnino? Mr. Castagnino è entrato in un momento un po' difficile della gara Però da sempre il suo La palma del miglior calciatore di oggi La darei all'umare Che dietro è stato perfetto in ogni occasione Ottima prestazione anche da parte dell'estremo Frontera Sì Frontera Diciamo che è stato impegnato poco Però è riuscito a dare il suo nelle occasioni che è stato chiamato in causa Cristian Grisi Centrocampista Nell'OS Scandale Un po' gollo Stava per regalare la terza vittoria allo scandale Poi è arrivato il rigore Sì Peccato perché era la prima rete in questa stagione Da centrocampista Il rigore magari era un po' dubbio Però l'albitro ha deciso così E è andato a finire in pareggio Come giudica questo inizio di campionato con la tua squadra? Ma tre partite, due vittorie, un pareggio è un buon inizio Che sinceramente non ci aspettavamo Sicuramente siamo una squadra competitiva Che lottiamo per la salvezza tranquilla Però abbiamo anche delle ambizioni per toglierci delle grandi soddisfazioni Domenica prossima? Domenica prossima è una bella partita Ci aspetta una delle tante lotte come stiamo facendo in questo inizio di campionato Andiamo fuori casa in un campo che non è il nostro Speriamo di fare meglio Sì è badolato Speriamo di fare meglio di questa domenica Che è stato anche un po' sfortunato Domenica prossima... Speriamo... Speriamo...